Riaprono i cancelli dei giardini di Villa della Pergola ad Alassio. Dal 29 marzo, dopo la chiusura invernale, sarà possibile tornare ad ammirare le meraviglie del parco, considerato uno dei gioielli della riviera Ligure di Ponente. Realizzati alla fine del XIX secolo, questi giardini si estendono per circa 22.000 metri quadrati e rappresentano un raro esempio di giardini inglesi in Italia.